Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 aprile. Insomma, i giornali oggi si dividono un pochino tra polemiche politiche e il giornale unico del virus. Insomma, sta tornando un pochino la polemica politica sui giornali, posto che stanno diminuendo i contagi e i morti. Da quello potete capire che forse si ritorna più o meno alla normalità. Quando ancora è incerto? Oggi il Corriere della Sera dice che la ripresa sarà diversificata in ogni regione. Oggi invece la stampa dice altri 15 giorni di chiusura. La data di cui oggi si parla è il 28 aprile nei retroscena dei giornali. Però insomma, il punto fondamentale è che gli industriali del nord vogliono riaprire le fabbriche. E questo forse è il tema di giornata. Su questo tema di giornata io trovo fantastico, come sempre, il taglio di Conte, che sarebbe quella del Fatto Quotidiano, che è il giornale del partito di Conte. La cosa è ormai evidente, cioè dal Movimento 5 Stelle, dalla filo casaleggismo e di maismo, sono passati alla filo contismo. Il nuovo partito di Conte, che cosa ci scrive oggi il taglio elegante, come sempre, del Fatto Quotidiano? Beh, altri 542 morti e Confindustria spinge per aprire martedì. Ovviamente Confindustria spinge per aprire, ma tutti gli industriali che ho sentito, tutti i commercianti, tutti quanti gli imprenditori, tutti quanti i barbieri, tutti quanti gli estetisti, non è che vogliono aprire per uccidere le persone, vogliono aprire perché hanno bisogno di mangiare. Toc toc! Travaglio! Hai capito il concetto? Mangiare! Forse a casa tua mangiare non è un problema, perché ti sei quotato in borsa, prendi ancora quattro soldini da quel giornale, ma le persone normali, se non lavorano, così come se tu non lavori, i tuoi collaboratori non lavorano, non mangiano, quindi il problema non sono i 542 morti, che sono un problema in assoluto, è il problema che se non si riprende, qua non si mangia. Il Fatto Quotidiano, questo qua ovviamente, questo tema non lo capisce bene, e il Quotidiano Nazionale ci fa capire un altro elemento fondamentale, che poi ti fa capire anche il ragionamento del Fatto Quotidiano, è che all'interno del Governo ci sono due anime, è quella che vuole riaprire un po' prima e quella che vuole riaprire un po' dopo. Io penso che Renzi l'abbia detto in tutti i modi, ma è un'anima, diciamo, che è fatta da due ministri, dalla Bellanova e il ministro della Famiglia, che peraltro hanno fatto interviste in questo senso, ma c'è anche una parte del PD un po' più riaperturista rispetto al Movimento 5 Stelle, diciamo, e a Conte, molto più prudente. Ci sta, non mi sembra che, soprattutto in momenti così complicati, è del tutto evidente che ci possono essere diverse anime al Governo. Certo, oggi ancora leggo in retroscena che tra Di Maio e Gualtieri i problemi sono se affidare alla Sace o alla CDP le garanzie per i prestiti del decreto che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco, questo ci sta di meno, ma sul fatto che non si riesca a capire quando aprire è interessante il dibattito all'interno del Governo. Ma voglio andare avanti perché è fantastico sempre il giornale del Governo, ma in questo appoggiato anche la Repubblica che ha sentito odore di vecchi fasti, cioè di mani pulite, anche se il magistrato che l'ho scelto è il più moderato di mani pulite, perché Gerardo Grombo è la persona forse più equilibrata, più rispettosa delle garanzie anche degli imputati e degli indagati. Beh, comunque sia, il concetto è sta succedendo un disastro a Milano e oggi sui giornali, lo capite, sui giornali antigovernativi ci sono due problemi su Milano. Il primo è la gestione delle RSA e in particolare del Pio Albergo Trivulzio. Ieri a pagina 3 di Repubblica si ricordavano tutti gli scandali del Pio Albergo Trivulzio fino ad arrivare a Chiesa. E l'altro attacco è la sottovalutazione che avrebbe fatto la Lombardia o gli errori che avrebbero fatto in Lombardia rispetto all'emergenza sanitaria. Sallusti, tra l'altro oggi, indagano due procure. Gongola il fatto! Indagano due procure! E lì abbiamo risolto i problemi. Quelli del fatto, sai, con la bava, la bocca, sono contenti che ci sono due procure che indagano. Ecco, si potrebbe anche dire loro, così come dicono i confindustriali, ci sono ancora mille morti da seppellire a Bergamo e le procure che non sempre, diciamo, sono lì al lavoro. Oggi su che cosa pensano? Su cercare di aprire fascicoli per indagare qualche cura? Perfetto, perfetto. Guardate come le procure che indagarono la centrale e il comitato grandi rischi e quindi condannarono perché non avevano previsto il terremoto. Sallusti scrive, benissimo, secondo me, oggi, una cosa che è totalmente impopolare. Sul fondo del giornale dice diamo uno scudo penale a tutti quelli che oggi si sono occupati del terremoto. Da Fontana a Conte. Ieri è uscita su tutti i vostri Whatsapp, si è arrivato lo scudino fiscale che si sono dati Arcuri, Conte e Borrelli perché hanno paura se la fanno sotto. Ma io dico che in realtà in questo momento abbiamo un tale, lo dico con Sallusti, abbiamo un tale rischio che le magistrature trovino qualche cosa che non va bene sulle anticipazioni, eccetera. Le stesse che stanno agitando i giornali per cui ovviamente le procure, come sempre, vengono apprezzate quando sono contro Fontana e contro Lombardia e disprezzate se invece sono contro, magari, amici, diciamo, romani alla Conte. E quindi Sallusti dice chiudiamola tutta quanta e cerchiamo di avere uno scudo penale. Io però oggi sui giornali non l'ho letto ma l'ho fatto per voi, va bene? L'ho fatto per voi perché quando vedo che c'è tutta questa roba qui contro la Lombardia, contro la Lombardia, quando vedo la lettera dei sindaci lombardi che se la prendono sulle zone rosse che Fontana non avrebbe fatto, quando vedo che le RSA sono soltanto quelle lombarde e leggo oggi sul tempo, sul tempo di oggi, che la RSA di Civitavecchia ha 58 persone che sono positive al Covid, no? Civitavecchia! Però il problema è la baggina, non Civitavecchia! Civitavecchia, ma probabilmente è evidente che in strutture chiuse con anziani il Covid ha trovato un terreno di cultura purtroppo più fertile. Io vi voglio ricordare soltanto queste cose. State con me un secondo. non si può paralizzare il paese, basta allarmismi. Conte, 27 febbraio. 27 febbraio, il sindaco di Milano sala, Milano non si ferma. Il 26 febbraio, Gori, Bergamo non si ferma e invita a fare shopping mentre mangia una pizza con sua moglie. 27 febbraio, Zingaretti, un aperitivo a Milano ha chiamato dalla sede del PD e tutto questo 26-27 febbraio mentre quell'altro Fontana era disperato che voleva chiudere tutto. Io pure pensavo che non fosse giusto chiudere tutto, ma quello lì se non altro ha chiesto prima di tutti di chiudere tutto e adesso gli rompono le scatole perché dicono che non è stato sufficientemente protetto. Quelli che facevano gli aperitivi e che dicevano basta allarmismi. Ragazzi, la Regione Marche come il Pio Albergo Tribulzio sono guidati da due esponenti del PD Regione Marche e Pio Albergo Tribulzio ma la Regione Marche che cosa chiede? Chiede che vengano chiuse le scuole Conte che cosa gli dice? Col cavolo e fa ricorso alla Corte Costituzionale perché dice non è potere del Presidente della Regione Marche di chiudere le scuole dopo quattro giorni le chiude lui. Allora, ragazzi, adesso io vi voglio bene tutti voglio lo scudo penale per tutti non vi voglio in galera però zitti e muti zitti e muti quando rompete le balle alla Lombardia che è l'epicentro di questo disastro e che ha cercato il cui Presidente della Regione ha cercato in tutti i modi di salvare il salvabile oggi su Italia Oggi leggo la campagna PD contro Fontana che avrebbe sottovalutato i primi indizi e ricorda appunto questo decreto delle Marche Libero fa il titolo come sempre più icastico su queste vicende le case di riposo eterne andiamo su altri due temi il decreto ragazzi il decreto sulla liquidità è una balla oggi c'è un'intervista di Berlusconi che dice basta annunci al decreto però è molto più morbido di Conte sull'Europa e poi parleremo anche di Europa però Stella è fantastico oggi ci racconta come richiedono i soldi svizzera e come dicevo in Italia quanto ci vuole poco ad averli ricevuti da un'impresa svizzera i prestiti quanto invece è complicato in Italia vi segnalo che quel signore Presidente del Consiglio fa la sua diciamo il memento mori no il memento mori fa la protezione civile si fa la sua conferenzina stampa il lunedì sera e oggi è giovedì e ancora non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto vi sembra una cosa normale da paese normale da paese in emergenza ma perché se no sono pazzo soltanto io un decreto per prestare dei soldi a delle aziende che non riescono a resistere e che lo Stato ha voluto chiudere tra l'altro queste aziende poi vedremo come reagiranno beh insomma ancora non è pubblicato mentre racconta Stella come Svizzera in Francia in America in Germania come vi ho fatto vedere io a Quarta Repubblica già sono arrivati i soldi sul conto corrente questi bisogna prenderli a calci nel sedere non si dispiacciono ma i burocrati i burocrati che stanno lì a discutere SAC e CDP per uno che sta morendo nella sua impresa o di fame sono dei nemici pubblici punto il poderoso flop titola il giornale su questo decreto da 400 miliardi soltanto Gualtieri oggi al sole 24 ore per buona educazione come lo sono anch'io quando prendo un ministro e gli faccio dire quello che vuole ma insomma caro Gualtieri questi 400 miliardi ancora non ci sono e dice Stella e ora siate semplici ma in realtà il pezzo il titolo di Stetta che è il fondo del Corriere della Sera che è il giornale unico del virus il titolo è ora siate semplici però leggete sul pezzo di Stella e capite che non è ora siete semplici siete decornuti perché non lo siete stati spiega il pezzo però il titolo dice e ora siate semplici Gualtieri è intervistato dal sole 24 ore che dice che arriveranno subito questi 400 miliardi nel frattempo il sole 24 ore e poche righe sotto ci spiega che non è stato ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale e poi dalla gazzetta ufficiale bisognerà capirlo e poi ci saranno i fondi di garanzia e poi ci saranno le istruttorie e poi ci saranno le modifiche che chiederanno e poi dovrà essere votato dal Parlamento insomma ragazzi stiamo nella follia più totale nel frattempo un'imprenditrice oggi intervistata dal Tempo forse titola la questione secondo un altro punto di vista caro Conte tieniti questi soldi finti perché dice l'imprenditrice piuttosto che indebitarmi oltre meglio chiudere l'attività perché per molte di queste aziende che già non stavano molto bene prima o che stavano galleggiando prima questa è la morte la fine e anche per quelle che non stavano galleggiando se tu chiudi per un mese ma come fai a prestare dei soldi fra due mesi non dare sostegno quelli là non è che hanno chiuso perché non c'era un mercato il mercato gliel'hai chiuso tu lo capisci anche un bambino nel frattempo straordinario che in questa vicenda dove quello che sta succedendo è il pubblico il collettivo i dipendenti pubblici molti dei quali ragionano benissimo come noi però insomma sta prendendo il sopravvento quando io leggo che il presidente dell'Emilia Romagna che avete appena votato in Emilia Romagna ha detto che la distribuzione delle mascherine lo devono fare le forze sociali cioè in Emilia Romagna la CGL che lui ha preso come suo punto di riferimento allora voi capite che siamo morti la CGL è il punto di riferimento della distribuzione delle mascherine che non ci sono per l'Emilia Romagna è una roba da matti sull'Europa c'è la durezza formale di Conte che in un'intervista alla BIL dice potrei fare anche a meno dell'Europa che viene riportata da tutti quanti i giornali italiani cioè può fare a meno dell'Europa l'Italia adesso finalmente siamo diventati salviniani cioè è la cosa che me fa impazzire che oggi trovo Alessandro Penati sul giornale Repubblica che mi spiega che sarebbero meglio le mutualizzazioni del MES perché il MES per noi sarebbe un gran problema ma io dico tutti questi e io per primo che non avevo ben capito il funzionamento del MES ma l'avevo un po' intuito diciamo così ma non sono un grande professore e non sono soprattutto un burocrata che riesce a leggere tutte queste pagine con rimandi di cui non capisco nulla come nessuno capisce nulla se non quei pochi mandarini che l'hanno scritto beh tutti questi anti-MES ma dove cavolo erano quando si discuteva e dicevano ma che schifo l'Italia il MES ma come fa a pensare ma ragazzi ma che diciamo l'Europa questi sono dei bifolchi che non vogliono il MES cazzo ma ora che vogliamo usarlo siamo tutti contro penati e contro quel conte ci dice ma questi erano dei bifolchi e oggi non lo vuole usare beh ma non ha forse qualche dubbio su questo MES me lo sto iniziando a porre anch'io no ma lo so mi sembra una roba pazzesca oggi tutti contro il MES quando ieri chi criticava il MES era considerato un troglodita beh siete voi dei trogloditi che ci avete trattato come delle merde perché mettevamo in discussione con la libertà di parola semplicemente questa roba qua del MES oggi mi sembra di capire che il MES cosa ha di grande enorme problema e che te prestano i soldi magari anche a buoni tassi magari anche con una buona scadenza poi ti strozzano ieri c'era Loquenzi Loquenzi sì scusami Loquenzi ti sei dispiaciuto hai fatto un tweet perché non ti è piaciuto il titolo di Repubblica del nostro Quarta Repubblica la Germania strangola l'Italia e questi sarebbero seri sei serio tu Loquenzi sei serio tu come sono seri tutti quanti poi fra un anno saremo tutti seri con il MES approvato e con tutti voi seri che prendete per il culo quelli che in maniera anche se vuoi un po' semplice dicendo qualche parola a Cina essendo un po' non pronto degli espertoni come te Giancarlone senza essere degli espertoni sintetizzano una cosa che se avessi visto quella puntata forse l'avresti capito anche tu ma non è un problema va benissimo va benissimo perché ecco quando ti dicono sì serio il MES è da discutere sì serio poi quando si deve utilizzare il MES oggi mi leggo Penati che non va bene oggi mi leggo Conte Presidente Consiglio che dice che non lo vuole usare comunque posso aprire chiusa questa parentesi lo useremo lo useremo lo useremo si capisce già oggi c'è l'Eurogruppo e là andremo a finire perché l'Olanda come scrivono tutti quanti non la vuole ma l'Olanda non è l'Olanda non ci prendiamo per i fondelli l'Olanda è scusami Loquensi l'Olanda non è l'Olanda ci siamo arrivati o forse sono poco serio forse anche la Germania la stessa Germania che ha il membro della BCE che non ha mai voluto fare il quantitative easing la Germania che è sempre stata molto dura con l'Italia sulla mutualizzazione poi hanno anche le loro ragioni non è che io penso che non abbiano le loro ragioni sono i loro sovranismi loro hanno i loro sovranismi come dice giustamente Benedetto della Vedova che la pensa diversamente da me sull'Europa ognuno ha il suo sovranismo e di fatti l'Europa morirà di sovranismi l'unica cosa che io direi è che i sovranismi non è che ce ne siamo accorti oggi della Germania lo sapevamo anche da ieri ma loro invece sono seri così come serio Villarosa toc toc ti ricordi Villarosa ti eri dispiaciuto per come ti avevo trattato tra l'altro non a te l'Agenzia delle Entrate ricordatevi Villarosa Agenzia delle Entrate Movimento 5 Stelle siciliano il fratello aveva una finanziaria uno che se ne intende lavorava per questa finanziaria che mi sa che è saltata ma comunque uno che se ne intende di fisco e di finanza questo Villarosa che se ne è presa con me allora caro Villarosa con garbo se no ti dispiace e non sei allora voi avete tu Villarosa hai apprezzato il fatto che il governo cioè voi compreso te che l'hai giustificato avrà due anni in più di accertamento per il 2015 e tu Villarosa leggiti oggi per favore Villarosa ce la fai Italia oggi Italia oggi quello che succederà a giugno perché noi questo siamo sicuri perché il fisco è certo i 400 miliardi del vostro decreto no ma il fisco a giugno è certo tax day sai cosa è il tax day Villarosa lo sai cosa è il tax day no perché poi fai le lezioncine a tutte ma magari non lo sai cosa è il tax day e ci saranno tutti i rinvii quei pochi rinvii che hanno fatto del fisco ad aprile e marzo ma Villarosa è là ricordatevi amici siciliani quando vedete Villarosa dite di grazie che mi hai dato questa grande opportunità di avere lo Stato che mi possa accertare per due anni in più stringetegli da mano grazie per l'aiuto fiscale che ci stai dando grazie Villarosa non voglio essere insultante per carità caro Villarosa nel frattempo io trovo straordinario oggi ce l'ho un po' con il Movimento 5 Stelle ma non è il primo giorno ovviamente ma non solo il Movimento 5 Stelle questi geni che volevano togliere la concessione autostrade punto primo autostrade quella roba l'ha gestita malissimo punto secondo anzi punto primo sono morte 43 persone autostrade si deve mettere in ginocchio a chiedere scusa e non fare i fenomeni come hanno fatto per mesi chiaro ma questi qua adesso che ci hanno raccontato che hanno fatto il decreto per togliere la concessione alle autostrade e darle all'anas io vi invito a leggere tutte le zuppe tutti i pezzi che ho scritto negli ultimi tre mesi e vi dicevo che l'anas è peggio delle autostrade cosa è successo? che ieri cade un ponte chi l'ha gestito? l'anas cosa leggi sui giornali che avevano già fatto cinque mesi fa avevano detto sindaco di Aulla e altre persone hanno detto guarda che questo crolla non funziona se ne sono fottuti hanno scritto relazioni che andava tutto bene e ieri non sono morte altrettante persone come sul ponte Morandi grazie al lockdown quindi dobbiamo ringraziare l'eterogenesi dei fini Conte perché ieri non sono morte 40 persone che bisogna togliere al bilancio della Covid quindi in Italia moriranno 17.000 persone purtroppo per Covid toglici 40 che sarebbero 50 che sarebbero morte sul ponte di Aulla che è crollato è crollato gestito dall'anas dal pubblico toc toc e mo a chi la togliamo la concessione cari geni statalisti cari grillini a chi la togliamo all'anas a cui volete affidare tutte le autostrade italiane perché loro sono tanto più bravi beh dai dite basta cambiare forse qualche funzione voglio vedere chi verrà indagato voglio vedere chi verrà arrestato voglio vedere chi viene punito e oggi giustamente Lottieri scrive il pubblico è sempre bello in realtà ragazzi credetemi vi giuro il titolo della stampa di oggi ma ci sarà un refuso perché io l'ho letto tanta volta a parte non ha mai scritto anas la stampa il titolo della stampa sapete cade il mito del privato ma come è caduto ad Aulla un ponte pubblico che doveva essere controllato dal pubblico che doveva essere mantenuto dal pubblico il pubblico che prenderà il privato e tu mi dici cara stampa giornale borghese di Torino che cosa che cade il mito del privato voi siete dovete cambiare pusher oltre che il gestore autostrada io non ci posso credere bellissimo ovviamente il pezzo di lottieri che la pensa esattamente come la pensiamo noi liberali cioè che la follia di affidare all'anas e pensare che il pubblico risolva i problemi del privato è una follia appunto Bernie Sanders lascia la corsa per la casa bianca e questi sono cavoli per Trump perché Biden è un po' più forte un po' più credibile meno socialista più dicono almeno leggo sui giornali più probabile che dia fastidio a Trump alle elezioni di novembre ma le vere elezioni di novembre si baseranno sull'economia e quanto crollerà in America e quanto saranno utili 2000 miliardi di operazione per dare soldi altro che quelli italiani agli americani nel frattempo Trump contro l'OMS e io dico forse anche qui solo perché lo dice Trump è sbagliato ma noi dovremmo fare un casino pazzesco contro questo OMS e lui lo fa sul concerto principale siete stati influenzati dai cinesi e per mesi e per troppi giorni non ci avete spiegato che questa pandemia cinese avrebbe avuto certe ripercussioni e certi danni avete sottovalutato e avete coperto i cinesi quello che dice Trump solo perché lo dice Trump ovviamente oggi non è condivisibile da nessuno se l'avesse detto Obama io avrei visto l'America contro l'OMS oggi è trattato come una specie di macchietta da qualche altra parte e così è la vita l'ANAS Trump colpa di Fontana cioè non si riesce mai a vedere nel giornale italiano quel lato dietro per il quale la zuppa è qui tutti i giorni a farsi il sangue non amaro ma diciamo insomma a bisticciare contro il giornale unico del virus che oggi è il solito giornale unico del politicamente corretto ciao